Nel Nisseno si è verificato un tragico incidente mortale a Serra di Falco, provincia di Caltanisetta, dove un giovane di 30 anni, Calogero Pace, ha perso la vita in seguito a un violento impatto con la sua moto. Il ragazzo è impiegato presso una ditta di trasporti e si trovava a bordo del suo mezzo quando, per causa ancora in fase di indagine, è entrato in collisione con un carroattrezzi. L'incidente è avvenuto a Contrada Balate nelle vicinanze del paese intorno alle 14.30 di lunedì 1 aprile. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente un'ambulanza del 118 e i carabinieri, ma purtroppo i soccorsi sono risultati vani. All'arrivo dell'ambulanza il motociclista era già in arresto cardiaco e nonostante il trasporto all'ospedale Sant'Elia di Caltanisetta è stato dichiarato morto. La comunità è colpita da questa tragica perdita e le autorità locali stanno indagando per comprendere le cause precise dell'incidente.